Buonasera a tutti, iniziamo la quattordicesima diretta di Scuola Tau del Divano. Io sono Paolo Ercoli, mi prendo giusto due minuti di presentazione e di presentazione di quello che andremo a vedere oggi. Questo intervento sul concetto di Young sul Tuinà è un intervento che segue l'intervento di Silvia di qualche giorno fa, di Silvia Ferrari sul Tuinà. Io mi occupo oltre a coordinare i corsi delle sedi Milano a Roma, mi occupo prevalentemente di Tuinà e Silvia l'altra sera vi ha fatto entrare a conoscere questa disciplina dal lato sperimentale, dal lato pratico, quindi con il suo intervento sull'autotrattamento. Quello che volevo fare io questa sera è quello di unire l'aspetto un po' più teorico della parte del Tuinà, anche se comunque sempre molto introduttivo rispetto al Tuinà, e quindi di far vedere in che modo il Tuinà mette in atto nella sua nel suo lavoro, nella sua modalità di lavoro, quello che è uno dei concetti più importanti della medicina cinese, cioè il concetto di Young. Quindi quello che faremo stasera sarà quello di andare a vedere prima che cosa si intende, che cosa si nasconde dietro il concetto di Young, lo faremo in un modo anche molto per immagini, e poi successivamente come questi principi si mettono in atto tramite il Tuinà, cioè con sostanzialmente l'utilizzo di un trattamento manuale del corpo. E' un intervento pensato sicuramente per chi non è addentro, cioè per chi non è un operatore esperto, per questa categoria di persone abbiamo comunque in programma altri interventi un po' più specialistici, però secondo me il concetto di Young è un concetto molto particolare, molto basse della medicina cinese, cioè del pensiero filosofico cinese, e probabilmente questo ripasso, questo punto di vista che offriamo questa sera può essere comunque interessante anche a persone che sono un po' più dentro ai lavori. Iniziamo intanto cercando di capire il perché questo intervento ha questo titolo, perché sono partito nella presentazione di questo intervento con un titolo di questo genere. Questo dipende dal fatto che il concetto Adorini Royang è un concetto veramente importantissimo all'interno del pensiero filosofico cinese, tant'è che purtroppo solo pochi minuti fa mi sono iniziato a chiedere quando è che appare nella storia del pensiero cinese, perché sinceramente a me sembra che sia sempre presente. Non riesco a datarlo sicuramente, lo dobbiamo datare almeno prima del VI secolo a.C. Qual è la potenza di questo sistema, di questo presupposto diciamo filosofico, è la possibilità che ci offre di guardare il mondo secondo un punto di vista diverso, cioè ci offre una chiave di lettura e di interpretazione della realtà, che ha un solo limite sostanzialmente, perché poi per il resto lo possiamo applicare, vedremo in tantissimi modi diversi. L'unico limite che ha il concetto di Yang è che descrive quello che c'è da questo lato, ovvero all'interno del nostro universo. Questo è l'unico, diciamo, limite che ha il concetto di Yang, perché il concetto di Yang si applica sostanzialmente al concetto, tra virgolette, dell'universo, così come lo percepiamo, oppure anche se non lo percepiamo, l'universo così com'è, e ne descrive le leggi in un certo senso, però come anche la nostra scienza dal punto di vista occidentale, proprio l'universo stesso ne rappresenta un limite. Questo non significa che non ci sia nulla oltre, significa che il concetto di Yang è un concetto che è valido all'interno del nostro universo, o quantomeno del Tao, dal lato, diciamo, dell'essere umano. Esiste però altro, esiste una situazione, chiamiamola, perché i termini che noi abbiamo dal nostro universo non possono descrivere con compiutezza quello che c'è al di fuori, però nel pensiero filosofico cinese esiste un altro livello. Quest'altro livello non è descritto, o quantomeno, per quanto ne sappiamo noi, non è descritto dal legge del genere di Yang, anzi. Quindi il concetto di Yang è un concetto la cui portata, diciamo, tra virgolette scientifica, cioè nel senso che ci permette una modalità di osservare la natura, secondo, per quanto riguarda quantomeno la nostra tradizione occidentale, un concetto molto diverso, un modo proprio di osservare le cose, cambia il paradigma. E c'è da dire che questo paradigma può essere utilizzato, come vedremo, a più livelli, ma sostanzialmente è l'unico paradigma invariante all'interno anche della medicina cinese. Cioè, comunque, tutte le altre leggi e leggine sostanzialmente si rifanno al concetto di Yang. Diciamo che se una persona potesse intuitivamente e facilmente applicare il concetto di Yang, potrebbe studiare medicina cinese con una semplicità incredibile. Forse lo studio della medicina cinese è proprio lo studio del capire in che modo applicare il concetto di Yang e di Yang a diversi livelli di interpretazione, a diversi livelli di penetrazione della realtà. Questo è il motivo per il quale volevo partire dal concetto di Yang, perché è veramente il paio di occhiali che ci dobbiamo mettere per guardare il mondo, quello che ci accade, quello che siamo, quello che vediamo, la natura stessa da un altro punto di vista. E questo mi sembra indispensabile, perché altrimenti riduciamo il Quina, o qualsiasi altra tecnica della medicina cinese, a una modalità operativa. Questo è vero, nel senso che esiste una parte operativa, ma è vero pure che la parte operativa presuppone che noi cambiamo paradigma di riferimento. Che cos'è il concetto di Yang? Per chi non è addetto ai lavori, anche se mi sembra di aver visto anche dei cartoni animati in televisione che si chiamano gli Yang, quindi probabilmente è un concetto che adesso è arrivato anche ai bambini. Però il concetto di Yang è un concetto che noi, dal lato occidentale del mondo, lo chiamiamo un concetto di insiemistica. Che cos'è l'insiemistica? Facciamo un esempio per chi non ha molto attitudine con la matematica. L'insiemistica è prendere 100 persone e dire, ok, faccio due gruppi, un gruppo lo metto da una parte, sono le persone più alte di tot, e un gruppo lo metto dall'altra, sono le persone più basse di tot, oppure quelli che mi stanno simpatici e quelli che mi stanno antipatici. Cioè creare degli insiemi, sono chiamati, in cui sostanzialmente valgono delle leggi che sono di natura qualitative e io posso formare dei gruppi definendo qual è il tipo di legge, cioè qual è la regola per la quale si appartiene o al gruppo A o al gruppo B. Qui c'è da notare una cosa particolare, e cioè che questo concetto di insiemistica, che viene utilizzato spontaneamente all'interno del pensiero filosofico cinese, ripeto, sicuramente più di 2500 anni fa, da noi nella matematica è un concetto che si fa strada all'incirca la metà dell'Ottocento. E questo già, secondo me, la dice lunga, nel senso di come veramente abbiamo preso nel corso del tempo due percorsi veramente paralleli di lettura della realtà. Per loro è stato spontaneo applicare questo principio, quindi un principio, diciamo così, che viene dall'osservazione delle qualità, già in epoca remota. Noi invece siamo passati veramente da un'idea di quantità, perché il nostro pensiero di scienza è sempre stato dominato dal criterio, diciamo, della riproducibilità. Per arrivare a capire come si costruiscono, quali sono le regole che stanno dietro alla costruzione di questi due insiemi, cioè l'insieme delle cose yin e l'insieme delle cose yang, intanto dovremmo prendere in considerazione anche, dovremmo capire qual è l'origine di questi due ideogrammi che adesso scriviamo tramite queste lettere. E etimologicamente i due ideogrammi che rappresentano lo yin e lo yang sono due che letteralmente significano lato assolato e lato in ombra di una collina. Quindi in tutti e due gli ideogrammi troviamo una parte che significa collina, mentre l'altra parte dell'ideogramma significa qualche cosa che ha a che fare con le nuvole e un'altra che ha a che fare con il sole, anche se sarebbe un po' più complessa l'applicazione di questi ideogrammi. Quindi sostanzialmente rappresento un po' quello che vediamo anche nella fotografia. C'è un versante illuminato e un versante buio di una collina. Partendo da questa immagine, perché ricordiamo il fatto che si utilizzino degli ideogrammi significa anche molto questo, cioè di partire non da un pensiero ma da un'immagine. Quello che noi abbiamo è quello di cercare di costruire degli insiemi, che sono quelli delle cose tra virgolette in e delle cose tra virgolette yang, tramite questa regola. Per fare questo piccolo gioco lo facciamo tenendo conto che non si può dire che una cosa è in e una cosa è yang. Il concetto di yang è quello che viene definito un concetto di relazioni a contrasto. Questo significa che bisogna mettere qualche cosa in relazione ad un'altra e soltanto avendo due aspetti si può dire quale di questa cosa è in rispetto a un'altra che è yang. Quindi per fare un esempio di questo sistema di relazioni a contrasto e agganciandoci proprio all'immagine che ci è stata consegnata, quindi al lato in ombra e al lato assolato, possiamo dire sicuramente che tutte quelle cose che sono relative anche al buio, cioè il lato in ombra è il lato sicuramente meno luminoso, in cui non c'è il sole. Per cui per esempio nella coppia luna-sole possiamo dire che la luna è in rispetto al sole. Il gioco è di questo tipo. All'inizio sembra un gioco piuttosto elementare, però vedremo che le implicazioni di questo gioco poi in realtà diventano molto molto importanti e molto interessanti. Per cui diciamo prima che l'immagine per esempio della luna e il sole ricalca l'idea del concetto di origine o yang, come per esempio possiamo avere il buio e la luce, oppure possiamo avere il concetto del freddo e del caldo. Questo va sempre letto in questo modo, il freddo è in rispetto al calore che è yang, oppure qualcosa di pesante, è pesante rispetto a qualcosa, è più in rispetto a qualcosa che è leggero, che diremo che è più yang. Stesso discorso per esempio per profondo e superficiale, profondo è più in rispetto a superficiale, interno è più in rispetto a quello che è esterno, qualcosa che è pieno, quindi ritorno un po' il concetto di pesante, è più in rispetto a qualcosa che è vuoto e quindi più leggero, qualcosa che è lento generalmente viene associato a qualcosa di in, mentre qualcosa che è veloce è qualcosa che è più yang di una cosa lenta. Per esempio potremmo fare più facilmente, ecco adesso proprio un'immagine con l'acqua, no? Se noi prendiamo dell'acqua fredda, generalmente che cosa fa quest'acqua? Quest'acqua è più, come dire, più ferma, sicuramente più fredda ed è più statica. Nei momenti in cui noi quest'acqua la scaldiamo e quindi quest'acqua diventa più yang di prima, perché assume la caratteristica del calore, allo stesso tempo quest'acqua diventa più veloce, c'è più movimento e per esempio un'altra caratteristica che poi sarà di yang che troveremo sarà più rumorosa. Ecco, tutte queste caratteristiche, il silenzio rispetto al rumore, il lento rispetto al veloce, come potrebbe essere anche qualche cosa che va verso l'esterno rispetto a qualcosa che va verso l'interno, sono tutte caratteristiche che definiamo più yang o più yang rispetto ad un'altra, sempre rispetto ad un'altra. Questo è un punto di vista fondamentale del concetto di yang, perché il concetto di yang è sempre un concetto relativista. questo significa che nulla può essere definito yang o yin, perché di qualsiasi cosa si può trovare una cosa più yang o più yin. E quindi la posizione, il ruolo che occupa qualche cosa nella gerarchia dipende sempre dagli altri, non è mai un ruolo assoluto, non c'è mai una corrispondenza assoluta di un ruolo, un'attribuzione di un ruolo, ma sempre un ruolo relativo agli altri. Questo è un aspetto molto importante. Questo è un aspetto molto importante e tra l'altro anche molto in contrapposizione proprio anche al nostro pensiero. Il nostro pensiero è sempre che c'è qualcosa che può essere giusto, qualcosa che può essere sbagliato, qualcosa che è vero, qualcosa che è falso, qualcosa che è buono e qualcosa che è cattivo. Nel concetto di yang anche questi valori perdono una connotazione così netta, perché proprio dal punto di vista filosofico tutte le cose, come vedremo bene più avanti, hanno sempre un lato yin e un lato yang. Per esempio, anche quelle immagini che vediamo, il lato assolato, ci possono essere dei punti più assolati o dei punti meno assolati. Quindi anche all'interno di ognuno di questi versanti noi possiamo trovare delle differenze in termini di yang. Dicevamo quindi, il concetto di yang è un concetto nel quale predomina comunque una certa forma di relativismo. Il relativismo ce l'abbiamo sotto tanti punti di vista. vi accennavo, per esempio, il relativismo dal punto di vista del fatto che, per esempio, nello spazio, dicevo, nello stesso versante della montagna è possibile avere dei luoghi più caldi, dei luoghi più alti, anche alte e basse, è un concetto di yang, quindi dei luoghi più alti o dei luoghi più bassi. Oppure, per esempio, c'è un relativismo anche all'interno del tempo. Per esempio, il sole in un altro momento sarà dall'altro lato della montagna. E non è detto neanche che il concetto di yang però richieda uno spazio o un tempo. Cioè, potrei applicare il concetto di yang a qualcosa di istantaneo, a qualcosa che veda, a un'immagine, e quindi dire se quell'immagine è più in o più yang rispetto a un'altra. Questo concetto del relativismo è importante, infatti è sempre scorretto dire che qualche cosa è in o yang. Quando, diciamo, volgarmente si usa questa espressione, in genere perché c'è qualche cosa che si dà per scontato che sia di riferimento. Quindi, per esempio, non è in assoluto corretto dire che il pesce è un alimento perché è nell'acqua. Questo perché, per esempio, all'interno dell'acqua esistono dei pesci che si muovono sulla superficie o dei pesci che si muovono in profondità. Quindi, non si può dire che una cosa è in. È una cosa, se io dico che il pesce è un alimento in, è perché dentro di me già lo sto paraguando a qualcos'altro, ma non lo ho esplicitato. L'esplicitazione, invece, del confronto è una cosa, è un parametro molto importante del concetto di yang. Qualche cosa è in o yang rispetto ad un'altra. E questo è molto importante. È un punto di vista veramente che tiene conto della relatività costante del concetto di yang. Lo stesso di concetto di yang lo possiamo applicare su scale diverse. Quindi io posso utilizzare, come vedremo più avanti, il concetto di yang zoomando successivamente e facendomi delle domande, diciamo, successive. Dicevamo prima che forse una delle definizioni migliori, se non sbaglio questa definizione l'ho letta su un libro, su un articolo di Giulia Boschi, è che lo definisce un sistema di relazioni, quindi che pone in relazione due aspetti, mettendole a contrasto tra di loro. E quindi, diciamo, costringendo una delle due parti ad essere un lato in e un lato yang di una collina. Come vedete, il concetto di yang lo ritroviamo anche, per esempio, nel Dao De Jing, dove, per esempio, nel capitolo 41, dove troviamo questa frase, il Dao, l'origine, se volete, a volte viene tradotto, di De Lua Galuno, l'uno si sviluppò in due modelli di alterne e produsse il due, e in questo due c'è proprio il concetto di yang. dal bipolarismo, cioè dalla presenza di due poli complementari, nasce la possibilità del fatto che le cose accadano. In un certo senso, questo traduce che dal potenziale si può passare all'attuativo. Ecco, il concetto di yang rappresenta i due poli all'interno del quale si sviluppano le cose, all'interno del quale le cose iniziano il loro movimento, attuano il loro Dao e iniziano a produrre, diciamo, i diecimila esseri. I diecimila esseri è un'affermazione che letteralmente significa tutte le cose possibili. E questo dirà proprio dalla presenza di questi due poli che, fungendo da estremi in un certo senso, permettono la dinamica. Generalmente, quando si studia il concetto di yin yang, si vedono principalmente quelle che sono le cosiddette quattro regole, i quattro assiomi che hanno a che fare con il concetto di yang, che sono le di opposizione, di mutua generazione, di crescere e decrescere, di trasformazione. Noi adesso le acceneremo in un modo velocissimo, perché poi vi voglio suggerire delle immagini che ci portano all'interno del concetto di yang. La prima, l'interdipendenza, cosa significa? Significa che, in un certo senso, questo concetto significa che ogni salita implica una discesa. Cioè che vedere qualche cosa e dargli il significato di salita significa aver già deciso il verso nel quale si percorre la strada. Ma ogni salita, se percorsa nell'altra direzione, è una discesa. Questa è una banalità, però significa che ogni cosa implica e porta con sé anche un altro aspetto di quella cosa. non esiste una cosa che nel valore assoluto ha un valore positivo o qualche cosa che ha assolutamente un valore negativo. Ogni cosa porta un, tra virgolette, rovescio della medaglia o comunque un altro lato della stessa medaglia. La mutua generazione significa che questi due aspetti fanno sì che la presenza di uno inneschi la possibilità dell'altro. Questo poi lo ritroveremo anche dal punto di vista dell'efficacia del trattamento. E che quindi è il buio che produce il giorno ed è il giorno che produce il buio, per capirci. Ovvero ognuno attua, compie il suo ruolo che crea anche la possibilità dell'esistenza dell'altro. Il terzo parametro è quello che diciamo che conosciamo un po' tutti che è quello dell'osservare il concetto dell'Oriano Young nel suo mutare lungo l'asse del tempo. Quindi per esempio nell'alternanza giorno-notte oppure delle stagioni o anche della vita o dell'universo. E però sostanzialmente questo principio ci obbliga a vedere il concetto del crescere e decrescere nello svilupparsi nel tempo. Che è, ripeto, una modalità in cui possiamo vedere il concetto degli anni. E anche in questo senso, come dicevo prima, non è fissata la scala temporale. Il concetto di Young, di crescere e decrescere, lo possiamo applicare ad un ciclo respiratorio oppure al respiro stesso dell'universo. L'ultimo è un concetto un po' particolare di quello che viene espresso anche all'interno dei classici come, se non sbaglio la frase esatta era che una delle caratteristiche del DAO è il capovolgimento dell'Oriano e dell'Oriano, quindi la possibilità che un estremo ribalti nel successivo senza criterio di continuità. Vi volevo però far addentrare un po', perché poi ci interessa, oltre che dal punto di vista filosofico, anche dal punto di vista della medicina cinese, in quello che è il concetto di equilibrio di Young. L'idea è che all'interno del nostro corpo sono presenti delle energie che hanno una qualità Yin e delle energie che hanno una qualità Yang e che la nostra salute sostanzialmente deriva dall'equilibrio di questi due tipi di energie. Che cosa significa questo? Significa che la nostra salute è un po' come questa mongolfiera, deve volare ad una certa altezza, che questo lavoro è un lavoro di continuo equilibrio, non esiste la possibilità di avere un equilibrio statico, bisogna fare un continuo adattamento e noi chiamiamo salute se la mongolfiera si discosta poco da questa quota di riferimento che è il nostro stato di benessere. Nel momento in cui c'è qualcosa che non va, noi avremo una sintomatologia che può essere manifestata come una mongolfiera che vola verso il basso o una mongolfiera che vola verso il basso e verso l'alto. Quindi nel caso in cui abbiamo un qualsiasi tipo di disturbo, qualsiasi tipo anche di sensazione, per esempio anche soltanto cambiando ambiente, noi entriamo in contatto con dell'aria per esempio più freddo o più calda e il nostro corpo si deve adeguare. Se riesce a compiere questo tipo di regolazione, riporta la mongolfiera alla sua altezza standard. Se per esempio questo freddo è troppo intenso, dita troppo a lungo, il nostro corpo diventa troppo freddo e la mongolfiera inizia a precipitare, cioè andare verso il basso. Questo è il modo in cui viene descritto lo stato, diciamo, di saluto di malattie e medicina cinese. Tramite proprio questa regola, questo punto di vista, questo palatino, tramite il concetto di un yin yin yin. Ovviamente poi la medicina cinese ha sviluppato dei modelli molto più precisi e molto più selettivi per inquadrare tutti i processi delle malattie all'interno del corpo. Però con lo strumento che abbiamo questo è quello che possiamo fare, cioè fotografare uno stato di disequilibrio nell'ottica yin yin yin. Faccio un esempio, visto che allo yang era associato il movimento, per esempio una persona che soffre di insonnia e quindi è sveglia e si muove 20 ore al giorno su 24, diremmo che ha uno squilibrio in cui prevale lo yang. Lo yang vuol dire che la mongolfiera va verso l'alto. Io penso che fin qui siamo tutti d'accordo, avendo definito prima il concetto di yin yin e prendendo questo esempio. La conseguenza diretta è che una volta che noi abbiamo appurato che la situazione la possiamo fotografare come una prevalenza dello yang, la teoria dello yang ci suggerisce un altro spunto di osservazione, cioè ci fa chiedere perché. Perché la mongolfiera può volare verso l'alto se lo yang è troppo o se lo yin è poco, ovvero o il pallone è troppo gonfio, è troppo caldo, oppure i pesi sono insufficienti. Questo non è soltanto un passaggio, come dire, dialettico, ma è proprio un passaggio che influenza anche il tipo di diagnostica in medicina cinese e anche il tipo di trattamento che viene fatto. Il discriminare a livelli successivi era quello a cui vi accennavo prima, cioè il concetto di lo yin e lo yang lo posso applicare su scale sempre più approfondite. È ovvio, sarebbe banale dire che una disarmonia all'interno di una persona dipende da uno spirito di yin yin. È ovvio che la nostra valutazione dovrà essere molto più sottile e individuare qual è il preciso di meccanismo che è venuto a mancare. Questo è l'inizio del percorso. Questo è l'inizio del percorso di valutazione che c'è in medicina cinese. Questa è la discriminante, cioè creare una doppia visione, un binario parallelo e cercare di capire sempre se qualche cosa dipende dall'eccesso di alcuni aspetti o dalla mancanza di altri a loro complementari. Detto ciò, quello che si cercherà di fare è di porre un atto, diciamo, un riequilibrio del concetto di yin yin. Considerate che il concetto di equilibrio, perdonatemi, io adesso lo sto applicando alla medicina cinese, ma lo potrei applicare alla musica, lo potrei applicare all'architettura, lo potrei applicare a un disegno, in base a che cosa? Io dico che qualcosa è bello, sostanzialmente perché è armonioso e l'armonioso, sotto questo punto di vista, deriva sempre da un equilibrio dello yin yin. L'equilibrio dello yin e yang non è l'unico parametro. Cioè, yin e yang non lavorano soltanto come delle forze, diciamo, opposte, c'è chi tira verso l'alto e c'è chi tira verso il basso e questo qualcosa che sta in mezzo, diciamo, viene tirato dalle due parti e dobbiamo sperare che rimanga galleggiante e che non affondi o non voli via. L'equilibrio dello yin si attua anche tramite il dinamismo dello yin e lo yang. Diciamo, prima ho detto che lo yin e lo yang sono i due poli attraverso i quali si innescano dei processi. Per cui, per esempio, dobbiamo vedere anche che lo yang, ovvero, per esempio, il sole in confronto all'acqua, quindi sole, yang, acqua in, noi abbiamo che l'origine proprio della vita sul nostro pianeta dipende dal fatto che il sole scalda l'acqua, quest'acqua scaldata evapora, forma le nuvole che poi successivamente precipitano e ricondensano sotto la forma dell'acqua. Questo che noi chiamiamo il ciclo dell'acqua sostanzialmente è, come dire, il primo motore della vita di questo pianeta e si ottiene proprio all'interno dei due poli, uno yang, il sole, il calore e l'acqua, lo yin e la terra. Per questo dicevo che lo yin e lo yang non sono soltanto delle forze che tirano in direzioni opposte, ma vanno viste anche come forze che permettono il movimento, che permettono la circolazione, che quindi creano dinamismo e come il sole e l'acqua creano i diecimila esseri. Questo è un aspetto molto importante, perché sarà proprio la potenza del fare dello yin e lo yang che ci consentirà di ritrovare l'equilibrio. L'equilibrio non può essere, non ci si potrà riavvicinare all'equilibrio se non tramine qualche cosa che muove un processo, che attiva un processo. L'ultima suggestione e immagine che vi volevo dare era di come si può applicare il concetto dello yin e lo yang su una stessa cosa tramite punti di vista diversi. Questo diciamo l'ho ribattezzato in questo momento il relativismo dello yin e lo yang perché l'idea era, tornando un po' anche al concetto che dicevamo prima, di armonia, di bellezza o di qualità di qualcosa. Cos'è che rende perfettamente armonioso un cappuccino? Prima di parlare della complessità di un individuo, di una persona o di un'opera d'arte. Allora, un'ipotesi potrebbe distinguere una serie di parametri che fanno il cappuccino relativamente a ognuno. Quindi sto parlando dell'esperienza individuale che questo è il primo punto del relativismo che voglio affrontare. Quindi dal punto di vista relativo a me stesso, un cappuccino direi che è perfetto nel momento in cui ha un equilibrio yin e yang che si mette in atto sotto alcuni diversi parametri. Per cui, per esempio, già dalla foto la prima idea che mi viene in mente è l'equilibrio chiaro-scuro. Cioè, quanto è il latte e quanto è il caffè. Perché se questo equilibrio yin e yang non è, come lo dico io, per me quell'equilibrio non è armonioso. Quindi, un cappuccino troppo scuro per me non è piacevole allo stesso tempo un cappuccino troppo chiaro. Quindi, la qualità di un cappuccino lo posso osservare dal punto di vista chiaro-scuro. Un altro punto di vista può essere, per esempio, caldo-freddo. Qualcuno adora il cappuccino tiepido, qualcuno adora il cappuccino bollente, ci sono tutte le vie di mezzo. Quindi, un altro parametro per il quale io posso giudicare la qualità e l'armonia di questo cappuccino è dal punto di vista caldo-freddo. Un altro parametro è, per esempio, schiuma-non-schiuma, perché la schiuma è più yang del liquido che yin e quindi si può andare, diciamo, tra due estremi. Un cappuccino che è tutta schiuma e quindi completamente yang e quindi è quasi anche molto difficile poterlo ingoiare, no? Cioè, la schiuma non scende perché per la sua natura yang tende ad andare verso l'alto e quindi alla fine è difficile da mandare giù. L'unica cosa che riesco a fare è magari portarla proprio giù meccanicamente e e l'altro invece è il cappuccino completamente senza schiuma, un po' tipo brodo. Questo è un altro punto di vista, potrebbe essere quanto zucchero c'è e quanto zucchero non c'è. Questo per dirvi che se noi osserviamo una cosa molto semplice come un cappuccino, noi abbiamo tantissimi punti di vista e tantissimi modi nel quale valutarlo da un punto di vista yin-yang tanto che non possiamo fare una somma. Cioè noi non possiamo dire in linea di principio che quel cappuccino è yin-yang nel suo interno perché ci sono dei parametri che possono essere completamente opposti e quindi non sommabili tra di loro. Per esempio potrei decidere di volere un cappuccino molto freddo con tantissima schiuma. Un parametro è completamente yin e un parametro è completamente yin-yang e non posso sommare questi due aspetti. sarà da un punto di vista molto yin da un altro punto di vista molto yin-yang. Questa è un po' l'idea di come secondo il pensiero cinese ci dobbiamo approcciare a valutare ripeto il cappuccino rispetto alla complessità dell'individuo è veramente nulla. Questo è per farvi vedere di come il pensiero diverge di come è difficile trovare un parametro che non sia come dire fisso che non sia rigido all'interno di questo modo di vedere le cose. Ho finito la mia premessa su quello che è il concetto di yin-yang adesso vediamo l'altro lato vediamo un attimo che cos'è il Tuin-A come tecnica e vediamo poi come queste due cose lavorino insieme o meglio il Tuin-A lavori per l'equilibrio yin-yang. il Tuin-A è una tecnica di trattamento manuale ho dovuto aggiungere ma non solo poi vediamo per quale motivo della medicina cinese questo è cosa significa innanzitutto come vedete anche dalla frase sotto non adoro chiamarlo una tecnica di massaggio la tecnica il Tuin-A è una tecnica di trattamento e cioè è una tecnica che serve a riequilibrare lo yin-yang non è una tecnica di piacevolezza non è una tecnica fine a se stessa di massaggio ma è una tecnica che ha il compito di riportare di costruire un equilibrio dal punto di vista yin-yang è una tecnica non solo manuale perché poi a parte che si possono usare anche i gomiti l'avambraccio eccetera ma perché può utilizzare anche degli strumenti ed è specifica della medicina cinese quindi per esempio non è lo shatsu lo shatsu si è sviluppato secoli dopo in Giappone il Tuin-A è stato era una delle materie con il nome con altri nomi il Tuin-A come nome della dinastia Ming il Tuin-A comunque come tecnica di trattenimento manuale è presente anche nell'Accademia Imperiale della medicina cinese quindi qualche cosa diciamo che storicamente va collocato citato già nel suo Wen come tecnica quindi è proprio una tecnica di riequilibrio dell'energia del corpo e tra l'altro molto tenuta in considerazione nell'ambito della medicina cinese tant'è che per esempio quando l'imperatore Giallo chiede al Cibo di collocare le diverse tecniche di spiegargli quali erano le tecniche diverse tecniche della medicina cinese Cibo risponde collocando il massaggio il Qigong e l'alimentazione al centro della medicina cinese e lo fa secondo una metafora dicendo queste tecniche sono collocate nella regione sono le tecniche specifiche della regione del centro ecco questo è la metafora tramite il quale sostanzialmente queste tecniche vengono messe all'interno della medicina cinese cioè nel cuore della medicina cinese e questa è una premessa di quello che è il QINAC come tecnica e se dovessi descriverne appunto a che cosa serve a che cosa non serve quali sono le azioni quali sono i benefici in questo contesto devo dire riesaminare quello che è stata proprio la premessa ovvero è una tecnica di reequilibrio dell'unero yang questa tecnica passa tramite l'utilizzo delle mani e di altre tecniche e tramite anche quello che è il sistema dei punti e dei meridiani o comunque complessivamente della medicina tradizionale cinese come si si porta come si ottiene l'equilibrio di yang nel QINAC o tramite questa tecnica soprattutto impostando un trattamento corretto e cioè che cerca di riportare tra virgolette le cose come erano prima è ovvio che come prima non saranno mai tutto in continuo mutamento diciamo di riportare la mongolfiera ad un'altezza accettabile che è quella del suo volo e per fare questo il il quina come fa per fare questo utilizza per esempio delle dei punti tramite i punti sono l'interfaccia tramite il quale dall'esterno noi possiamo andare ad influire su quello che succede all'interno del corpo e a riequilibrare queste energie nel modo in cui si costruisce e si organizza la sequenza di trattamento nel tuina vero cioè diciamo fatto bene non esistono dei protocolli di trattamento i protocolli di trattamento sono come le scale e gli arpeggi per chi studia musica cioè qualche dei pattern che si utilizzano per imparare a sciogliere le dita a sciogliere le mani per porsi delle domande per affrontare delle situazioni con diciamo con disinvoltura ma sono il punto di partenza non sono il punto di arrivo del tuina quindi ogni sequenza viene impostata perché ogni mongolfiera è diversa e all'interno dell'impostazione della sequenza scelgo delle manovre che hanno come vedremo dopo una loro peculiarità dal punto di vista di quindi viene impostata diciamo una sequenza e all'interno di questa delle manovre come anche altre tecniche per esempio coppettazione moxa che posso utilizzare all'interno di un trattamento tuina questo ha lo scopo appunto diciamo prima del concetto di yang porta in sé il concetto di equilibrio e la salute dall'equilibrio di yang il tuina si muove per l'equilibrio tramite diciamo questi fattori come si fa a portare questo equilibrio dando dinamicità al sistema cioè muovendo qualcosa spostando qualcosa e in questo il dinamismo del di yang c'è da dire che è molto importante perché mi consente di di lavorare nel tempo questo è un aspetto molto particolare del tuina e un aspetto veramente se lo posso mettere in confronto all'agopuntura noi vediamo che l'agopuntura che cosa fa diciamo la parte dell'infissione degli aghi è una parte che occupa un tempo veramente breve cioè più o meno generalizzo e ovviamente cado in luoghi comuni però normalmente in un trattamento di agopuntura io metto gli aghi nei primi non so cinque minuti quindi il trattamento come dire il parametro tempo è più il tempo che la persona rimane con gli aghi e quindi il modo in cui gli aghi lavorano all'interno di questo schema di punti piuttosto che nella infissione degli aghi il trattamento di Twin Up presuppone il fatto di trattare delle zone dei distretti dei mediani dei punti con una precisa collocazione temporale il che ci consente nell'arco della durata di un trattamento di guidare proprio come dire fisicamente il C lungo la strada dagli dei tempi vedere cosa succede e comunque guidare e indirizzare il C nel modo e nei posti che vogliamo noi questo è molto importante questo aspetto della durata del trattamento cioè dello sviluppo lungo il tempo è un'arma di quello che è il Twin Up e l'altro è l'aspetto delle manovre noi abbiamo delle manovre che hanno delle qualità in delle qualità young quindi la cosa che possiamo fare per riportare l'equilibrio è il fatto di utilizzare delle tecniche piuttosto che altre ricordiamoci che se ne vogliamo riportare l'equilibrio non è detto che il trattamento stesso sia intrinsecamente armonioso anche ovviamente se cercheremo di farlo perché è più piacevole per l'altro però è vero anche che il trattamento deve forzare in una direzione ok cioè deve avere delle caratteristiche che lo connotano in modo da essere da riportare in equilibrio questo è un aspetto molto importante per cui questo aspetto delle manovre per esempio le manovre hanno diverse velocità quindi sono delle manovre più in più statiche delle manovre più young quindi più dinamiche noi abbiamo delle manovre in cui c'è un ritmo per esempio le tecniche di percussione le tecniche di percussione sono le tecniche che hanno del ritmo e quindi sono delle tecniche particolarmente young hanno una direzione possono essere fatte per esempio lungo la direzione del C nel meridiano o nella direzione contraria oppure per esempio possono essere eseguite con una particolare energia una particolare forza una particolare enfasi oppure molto delicatamente tutti questi aspetti modificano la qualità delle manovre e complessivamente del trattamento un altro aspetto che noi abbiamo è quello di utilizzare delle tecniche come per esempio la coppettazione o la moxa all'interno del trattamento che sia tra di loro quindi sicuramente la moxa essendo una tecnica che è una tecnica che dà calore rispetto alla coppettazione è una tecnica diciamo che da questo punto di vista è più young ma anche la coppettazione stessa a seconda delle diverse tecniche di coppettazione può essere più o meno inno più o meno young quindi per esempio coppette fisse strisciate intermittenti più o meno calde più o meno veloce più o meno ritmo più o meno velocità quindi come abbiamo detto anche un po' per le manovre quindi vedete sia nel confronto tra le varie tecniche sia all'interno della stessa tecnica come diciamo prima il concetto di young assume significati e livelli di interpretazione diversi e poi ogni volta le impostazioni del trattamento mi ricollego anche al primo punto del tempo dobbiamo decidere per esempio se andare dallo in verso lo young o dallo young verso lo in cioè se vogliamo portare la mongolfia in una direzione piuttosto che un'altra faccio degli esempi in medicina cinese molto spesso il dolore viene visto come qualche cosa che è bloccato qualche cosa che impedisce la circolazione e che il nostro corpo ci segnala in un certo senso la presenza di questo ostacolo alla circolazione dandoci il segno del dolore qui significa che c'è qualche cosa diciamo di in qualcosa di bloccato che è sostanzialmente al quale dobbiamo aumentare diciamo la componente young cioè che dobbiamo mettere in movimento che dobbiamo come dire in medicina cinese il termine disperdere ma direi togliere questo accumulo in una zona e ridistribuire tra virgolette questa energia nel corpo o buttarla fuori dall'organismo se estranea e questo è cosa significa che le nostre manovre dovranno partire da questa situazione in e farla evolvere verso lo young diversamente ci possono essere delle situazioni in cui nel corpo in alcune zone manca dell'energia quindi è prevalente diciamo rispetto alla condizione precedente una condizione di vuoto di mancanza e che l'energia del corpo debba essere indirizzata verso questa zona quindi va raccolto quello che è possibile dalla periferia per portarlo verso una zona questo è un punto attento che andrebbe dallo young verso il no è vero anche che sono interdipendenti per esempio muovere i blocchi muovere gli stagni vuol dire anche attivare la circolazione e fare sì che gli organi producano di più per cui anche delle tecniche che hanno una vocazione diciamo di mettere in movimento inducono anche dei processi all'interno del corpo di produzione di sostanze non soltanto di circolazione questo dinamismo che viene introdotto cioè questa stimolazione che viene introdotta tramite il trattamento Tuinac come diciamo prima serve a riportare o a favorire la possibilità che si crei un nuovo stato di equilibrio un nuovo stato di benessere della persona e quindi che si riporti la mongolfiera diciamo alla giusta altezza un altro aspetto per esempio anche qual è la durata la frequenza dei trattamenti sono altri parametri che mettono maggiore o minore enfasi sull'aspetto Yi Yang del trattamento che stiamo effettuando spero che questa breve introduzione del modo in cui il concetto di Yang entri nel trattamento di Tuinac sia stata abbastanza chiara per cui vi lascio un attimo una riflessione che poi sciolgo nei prossimi minuti e la riflessione è nella seguente domanda ma alla fine secondo voi il Tuinac è Yino Yang cioè che idee ci siamo fatti riflettiamo un minuto su questo aspetto ma in base a quello che abbiamo detto il Tuinac è Yino Yang non sono direttamente in grado di leggere la chat per cui adesso vi prenderò uno spazio di domande e risposte per esempio e vi do la vi do la risposta vi do la risposta che che vi avrei dato e cioè che che la domanda è malposta se se siete degli ascoltatori attenti vi sarete accorti che questa domanda non era assolutamente posta nel modo corretto perché non si può assolutamente fare una sintesi di questo tipo innanzitutto non abbiamo stabilito rispetto a chi e che cosa il Tuinac deve essere in Yino Yang quindi rispetto a se stesso rispetto allo sciazzo rispetto alla copuntura esatto dipende e la risposta adesso che sto guardando lasciate la risposta che che gli allievi più scaltri hanno imparato che dipende è una di sempre delle risposte migliori perché dipende sempre da che cosa vogliamo osservare rispetto a che cosa qual è l'altro l'altro lato diciamo che vogliamo osservare rispetto a che cosa quindi questa sicuramente è la risposta giusta volevo finire diciamo con questo piccolo tra virgolette tranello perché appunto l'azione che comunque noi andiamo a fare ha una caratteristica in Yino Yang a secondo di qualcosa quindi posso rispondere alla domanda se Tuinac è in Yino Yang se qualcuno mi completa la frase dicendo è in Yino Yang rispetto a allora in quel caso lì nei prossimi minuti che ho a disposizione potrò rispondere a questa domanda o alle altre domande che potete porre io mi metto a guardare la chat cercherò non sono molto pratico come tutti sanno vedo che comunque rispetto a cosa dipende eccetera eccetera abbondano sono contento vuol dire che o siete arrivati preparati o lo siete diventati durante quest'ora se ci sono delle domande io sto guardando la chat quindi posso rispondere anche eventualmente alle domande a cui non ho risposto prima quindi se me le riponete per me è molto più semplice per tutti quanti rinnovo l'invito a venirci a trovare a lezione e la lezione significa sia le lezioni che stiamo facendo online in questo periodo in cui non c'è possibile fare diversamente oppure se avete pazienza a una lezione che faremo dal vivo appena possibile oppure a degli eventi che aperti e quindi proprio anche un po' più coinvolgenti anche un po' più strutturati adesso ne stiamo preparando una ad esempio per la fine di giugno perché comunque queste dirette queste modalità ci aiutano molto a superare questo periodo ovviamente preferiamo sempre il contatto umano a quello di facebook sono a vostra disposizione per le domande spero di essere in grado di gestire questa cosa direi di sì perché vedo che sono di due minuti fa io aspetto questi altri cinque minuti se non vedo altre domande vi saluto e vi ringrazio per la vostra attenzione un po' più Nicoletta mi chiede un libro sul Tuinà e questo è un po' un conflitto di interessi perché io sono autore e non l'ho citato perché non volevo fare uno spot pubblicitario diciamo che se ti guardi intorno ci sono parecchi testi sul Tuinà noi abbiamo lavorato, io, Vito Marino e Lidia Crispi abbiamo lavorato a un testo di Tuinà con questa impostazione e quindi soprattutto sullo stimolo a come cercare di costruire sempre delle sequenze diverse con questo obiettivo è un libro che è uscito qualche anno fa stiamo lavorando diciamo alla continuazione e mi sono perso una domanda che ce l'ho stata facendo, scusate intanto quindi il libro si chiama Manuel Tuinà è fondamenti e strategie di trattamento e lo trovi facilmente su internet esce con tre DVD allegati sulle manovre e vedi intanto Tuinà o Shatsu qual è la vera differenza come dicevo prima soprattutto la differenza dal punto di vista storico cioè il Tuinà nasce all'interno della medicina cinese e si fa riferimento al Tuinà per tutta la storia della medicina cinese e lo Shatsu soprattutto se ci riferiamo a Masunaga che è quanto c'è più di vicino al Tuinà è qualche cosa, ormai non si può più dire di questo secolo ma del Novecento e nasce all'interno della medicina giapponese quindi che è qualche cosa che ha a che fare con la medicina cinese tanto quanti chilometri hanno a che fare con l'Emilia cioè il Giappone è un'isola e si è sempre costruito le sue cose sulla sua misura un po' come ha fatto l'Inghilterra con l'Europa vedi la Brexit questo significa che la medicina giapponese non è esattamente la medicina cinese se c'è qualcuno che ha seguito questa conferenza e ha fatto macrobiotica se ne è accorto già nella definizione del concetto dell'inero yang quindi è ovvio che la finalità è lo stesso la finalità è la stessa per tutte le tecniche che ci permettono o che nascono con l'intenzione di farci stare meglio sono due tecniche diverse, parallele potremmo dire anche con la Yurveda potremmo dire per esempio tra copuntura e onopatia sono delle tecniche diverse ognuno ha il suo paradigma ognuno ha i suoi obiettivi e quale scegliere è semplicemente una questione di affinità sostanzialmente mi sono perso però scusate, prima è stata posta un'altra domanda più specifica soltanto che poi sono arrivati da tanti altri messaggi e se qualcuno ha posto una domanda ah ecco sì, tu in a Qigong ok, rispondo a tutte e due perfetto, era quella che mi ero perso grazie Trifolium e allora sicuramente tu in a e Qigong hanno la stessa dialettica yin yang non ho capito esattamente la domanda però è esattamente lo stesso cioè valgono le stesse cose che ho detto prima per cui per esempio se dovessi fare degli esercizi che portano, che aumentano tra virgolette la mia componente yin saranno esercizi statici nei momenti in cui io voglio portare qualcosa verso l'esterno pensa al Baduangin, io ho i pugni per esempio quindi sicuramente tutto quello che ho detto se cambiamo qualche dettaglio vale esattamente anche per il Qigong non ci sarà l'esecuzione delle manovre ma ci saranno l'esecuzione degli esercizi per esempio il tipo di postura quanto i piedi sono aperti o non sono aperti se l'esercizio è statico e dinamico quanto è dinamico il ritmo dell'esercizio l'emissione dei suoni per esempio sono tutti parametri che puoi leggere dal punto di vista yin yang e puoi applicare tranquillamente al Qigong quindi questo sicuramente Martina dice che il TINAR lavora su tutto il mediano lo Shatsu lavora sul mediano il TINAR lavora sul mediano e sui punti io devo dire il vero sullo Shatsu sono un po' ignorante però esistono gli tsubo quindi esistono anche i punti sullo Shatsu è che lo Shatsu ripeto io sono ignorante per cui se c'è qualcuno che conosce bene entrambe le discipline lo invito a darmi una mano però lo Shatsu ha dei presupposti anche diciamo teorici nel senso di a parte i meridiani sono stati ridisegnati e quindi discostano dei meridiani che conosciamo in medicina cinese però a parte questa cosa che potrebbe essere anche un piccolo dettaglio ci sono dei sistemi per valutare lo squilibrio yin yang e dello Shatsu che sono diversi da quelli cinesi cioè lo Shatsu ha sviluppato un sistema chiuso proprio in cui io valuto qualche cosa e la tratto tramite questa metodica la stessa cosa che per dire puoi aver fatto la Yurveda con la sua medicina cioè viene descritto un sistema perfettamente chiuso dove io tramite degli strumenti capisco che cosa fare e tramite degli altri strumenti cerco di, tra virgolette, correggerlo solo lo Shatsu usa le sue cose da un lato e dall'altro cioè sia nel senso del capire che cosa c'è che non va sia nel correggerlo il Twin House usa le tecniche della medicina cinese da noi lo Shatsu molto spesso viene insegnato con una buona dose di medicina cinese ma diciamo storicamente non gli appartiene completamente questo penso che appartiene dalla mia ignoranza sia un valore sicuramente certo non è una tecnica per capirci non è una tecnica menzionata nei classici di medicina cinese ringrazio ho un po' l'ansia delle domande cioè di scorrere le domande e e quindi non ringrazio chi mi ringrazia quindi volevo spendere adesso che vedo che le domande sono finite anche un attimo su questo e e cioè sul ringraziare chi ha partecipato ma anche soprattutto tutte le persone che hanno ringraziato tutte le persone che stanno apprezzando ah ok qui scopro che ci sono un sacco di domande grazie ok ah scusa se tu inai qigong era yin o yang tra di loro scusa non avevo capito e dipende dal punto di vista diciamo che si fa in due il che non è obbligatorio per il qigong e grazie a Maria Angela sì infatti ecco chiamiamola medicina orientale e così via e come può un trattamento di tuina approssimare una seduta di acopuntura viceversa e qui mi devo giocare una battuta che fa sempre Francesca Cassini che è un'altra insegnante di tuina di eh Milano fa lezioni anche a Bologna a Roma e e lei una volta mi ha detto quando mi chiedono qual è la differenza tra il tuina e l'acopuntura è che eh mi sento di dire eh mh che eh purtroppo chi fa acopuntura ha solo gli aghi questa è una battuta eh però è interessante cioè nel senso che l'acopuntura passa tra virgolette esclusivamente da un mediatore che è l'ago eh invece il tuina eh prima di arrivare alla stimolazione dei singoli punti e quindi di cercare di indurre proprio questo dinamismo e questo movimento tramite la stimolazione di punti permette di lavorare su tutto il resto quindi permette di lavorare su delle zone permette di lavorare su una muscolatura contratta permette di farvi cominciare a scorrere il C prima di trattare permette di trattare i meridiani quindi di fare un lavoro per esempio che potrebbe essere faccio un'ipotesi precedente alla stimolazione del singolo punto eh permette di fare appunto un lavoro eh lungo il canale lungo il meridiano consente di eh trattare più punti perché poi la stimolazione tramite le mani è meno invasiva del lago e quindi eh ovviamente dal punto di vista estremamente fazioso di chi fa tuina e non fa copuntura eh il tuina offre tantissimi strumenti in più della copuntura ok ovvio che è un punto di vista fazioso è sicuramente di parte è spudoratamente di parte ci sono tanti motivi anche per dire il contrario però a noi ci piace pensarla così ok vedo soltanto questi ultimi penso che con il saluto di Marino eh ne approfitto anch'io per salutare tutti se non vedo arrivare qualcosa al volo perché o poi eh continuo le nostre dirette vi rinnovo l'invito però a superare l'aspetto mediatico e di venirci a tua lezione scriveteci troviamo il modo per rimanere in contatto perché fa molto più piacere guardarsi negli occhi e sono il primo forse è un problema mio che sto qui a parlare davanti a una telecamera magari per voi è più piacevole poter preparare la cena nel frattempo ma vi invito molto a venerci a trovare la lezione e rimanere in contatto con noi grazie buona serata un abbraccio a tutti e grazie di voler continuare a crescere e imparare cose nuove a faccio i